Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche amorose per la seconda metà di giugno e abbiamo la carta del sole ragazzi. Queste sono letture un po' più specifiche per quello che riguarda le relazioni romantiche, sia che sia una relazione agli inizi, sia che sia una relazione di lungo tempo. Se poi volete vedere le previsioni per i single piuttosto che per gli affetti, gli amici e questioni familiari sono già online, le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Io comunque vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, trovate le previsioni per il primo e il secondo semestre del 2024, le previsioni per l'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Cari amici del Capricorno, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile a livello romantico per la seconda metà di giugno. 6 di bastoni, il sole, 4 di spade. Asso di coppe, 9 di bastoni e fante di spade. Ok, ragazzi partiamo. Adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi farò i vari esempi se siete in una relazione diciamo lunga, piuttosto che breve, piuttosto che indefinita. Allora, i 6 di bastoni è una di quelle carte che mi dice che c'è un qualche tipo di risultato, ci sarà nella seconda parte di giugno, un qualche tipo di risultato. Allora, per qualcuno sì, un risultato, un riconoscimento, un obiettivo raggiunto. Per qualcun altro ho la sensazione che sarete voi a prendere per mano questa persona e un po' ad accompagnarla in questo periodo. Andiamo a vedere i 6 di bastoni. 4 di coppe e regina di bastoni. E' interessante questo 4 di coppe perché ho l'idea che vi sfuga qualche cosa. Andiamo a vedere il sole. 5 di spade e carro. Allora, vi dirò il sole di solito è una carta che parla di qualche emozione molto pulita, genuina. Sinceramente in questo frangente, visto che ce l'avete anche qui, sento come se ci fosse una forte 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 amicizia tra voi e l'altra persona. E questo è indipendente dal fatto che la frequentiate da più o meno tempo. Ci sono persone che sono in coppia da anni e non sono in grado di essere amici col partner. Non so se mi sono capita. Nel senso che l'amicizia non è sempre scontata all'interno di una relazione. Andiamo a vedere il 4 di spade. Assù di pentacoli e 10 di coppe. Asso e 10. C'è voglia di ricominciare. Ma con questo 4 di spade, ragazzi, ho la semplice. Perché qui avete anche un 4 di coppe. Ho come l'idea che ci sia bisogno di riprendere un attimino le forze. Anche qua avete un 9 di bastoni. Allora, quello che dirò da adesso in avanti, io parlerò come la vostra energia o l'energia dell'altra persona. Tenete presente che in questo genere di letture possono essere invertite. Quindi quello che io dico essere per l'altra persona potreste sentirlo vostro e viceversa. La sensazione che ho però è che ci sia un legame pulito con questa persona, un legame genuino, un legame che sta crescendo, che si sta formando, che sta in qualche modo cercando di avere una direzione nonostante determinati conflitti. Ma i conflitti ci sono perché? Perché l'altra persona tira un pochettino indietro. sento che tra i due voi siete quelli che, diciamo, fate dei passi più decisi. L'altra persona è come se avesse ancora bisogno di guarire delle ferite inerenti al passato. È titubante. Ma anche voi in realtà non è che siete poi così super aperti. Cioè nel senso, agli occhi degli altri sì, siete entusiasti, siete aperti, siete affascinanti, siete estroversi. Però ho come la sensazione che nel settore relazioni amorose andiate un pochettino in punta di piedi in questa seconda parte di giugno. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Re di bastoni Dieci di pentacoli E le remita È come se le cose fossero mature, effettivamente O per lo meno Per quello che riguarda voi Le cose potrebbero essere mature per iniziare qualche cosa di più profondo Che non sia una semplice amicizia Avendo l'asso di coppe vi dico che molti di voi potrebbero anche essere innamorati di questa persona Ossia questa cosa va al di là O per lo meno ci potrebbe essere il potenziale di un innamoramento mi verrebbe da dire Cioè ci sono come i presupposti Andiamo a vedere il 9 di bastoni Cavaliere di coppe e 3 di spade Allora ragazzi io qua sento che l'altra persona sta metabolizzando ancora qualche cosa C'è un 3 di spade al contrario E quindi è anche un 9 di bastoni Quindi qui ci potrebbe essere qualche ferita proprio inerente il passato ragazzi Qualche questione che fa sì che questa persona sia un po' sulla difensiva Anche se vi dico mi sembra un po' l'energia comune in realtà Dove tutti e due sì Forse voi leggermente di più siete un po' più propensi Però devo dire che Sento che un'energia un po' di entrambe Non perché Cioè sento che vi rispettate E' un po' questo il senso Vi dico con questo cavaliere di coppe Ho la sensazione che qualche tipo di proposta Potrebbe faticare ad arrivare Vi dirò Perché il 9 di bastoni mi dice che E' come se ci fosse bisogno di riposo Come se ci fosse anche paura proprio Un po' l'arcano minore della luna in questo senso Perché indica come una paura latente Andiamo a vedere il fante di spade Temperanza 2 di coppe Sì allora Quello che vi posso dire ragazzi E' che Per il mese di giugno O meglio Per la seconda parte di giugno Le cose saranno un pochettino Discontinue Con questa persona Proprio a causa Di questi Di questa stanchezza Di queste paure Di questi timori Che ci sono Però andiamo a vedere Caso per caso Allora Se la vostra relazione E' fresca Cioè nel senso E' iniziata da poco Sento che ci sono Delle solide basi Per poter Ampliare La conoscenza La Proprio il legame Che c'è con l'altra persona Per qualcuno Si tratta di organizzare Magari un viaggio Piuttosto che uno spostamento Un corso Vi dirò Che potreste essere voi Soprattutto se l'altra persona Non sta tanto bene A quella ferita Di cui parlavamo Prima da guarire Potreste essere voi Ad accompagnare Qualche tipo di corso Qualche tipo di scuola Di evento La vostra persona Di interesse Nella seconda parte Di giugno Per il resto Se siete In una relazione Devo dire che E' ben solida C'è del sentimento C'è dell'emozione C'è affetto C'è reciprocità Qualcuno E' come se dovesse Decidere Da che parte Far andare la relazione Perché qui abbiamo Un dieci di coppe E qui abbiamo Un dieci di pentacoli Devo dire che un po' Entra E qui asso e asso Devo dire che un po' Entrambe siete Sulla stessa lunghezza D'onda Ma è come se ci fosse Una sorta di freno Appunto a causa Di certi colpi Già ricevuti nel passato A causa del fatto Che uno dei due O entrambe Hanno bisogno Di rielaborare Certe cose proprie Vi dico Ho come la sensazione Che ci sia bisogno Ancora di tempo Tra voi E questa persona Perché le cose Si sviluppino In un certo modo Diciamo che vedo Le cose un pochettino Altalenanti Per la seconda Settimana di giugno Se siete In una relazione Da tanto tempo Con questa persona Ragazzi Devo dire Che qui C'è C'è Equilibrio O perlomeno C'è il tentativo Di un equilibrio Ok Perché vedo Comunque le cose Abbastanza Equilibrate Non del tutto Perché comunque Abbiamo una temperanza Al contrario Di due di coppe Per qualcuno Si potrebbe Trattare Di un momento Di convalescenza Dell'altra persona O magari Un momento Di impossibilità Vedersi Anche se lo vedo Molto raramente Vi sento Sulla stessa Lunghezza d'onda Ragazzi Non Perfettamente ancora In equilibrio Perché abbiamo Due volte La carta del sole E come se ci fosse Questo sentimento Pulito Che sta cercando Di evolvere Sta cercando Di crescere Di prosperare Mi viene da dire C'è questo Cinque di spade Che mi scoccia Un po' Datemi una carta Per questo Cinque di spade Otto di pentacoli Ci potrebbero essere Dei temi Legati al lavoro Soprattutto Se siete voi Che guidate L'altra persona Magari In questo corso O in questa Percorso Che andrete a fare insieme Potrebbe essere Il viaggio C'è come Un qualche cosa Legato al lavoro Potrebbero anche essere Problemi di tempo Vi dico Tutto sommato Non andrà male Anzi Le cose stanno Prosperando Il sentimento Sta evolvendo Voi siete Piuttosto presi Voi siete Piuttosto presi E l'altra persona L'intenzione che ha È di mettere Delle solide basi Per poter costruire Qualche cosa di più Però è come se In questo momento Avessi bisogno Un attimino Di riposare Avessi bisogno Di riprendersi Da questo Tradispade O come l'idea Che potrebbe essere Una ferita Ancora aperta Per questa persona E di conseguenza C'è come questa Aria Un po' di sconditino In questi 15 giorni Ma niente di Preoccupante Ragazzi Andiamo a vedere Una fatina Solitudine E qui avete Anche l'eremita Allora Pensare di essere Da soli Vuol dire Di essere Di essere Una cosa unica Col tutto Sarebbe In totale Armonia Con qualsiasi cosa I più grossi Tesori Sono Quelli Che aspettano Silenziosamente Nei tempi Di quiete Avevate Qualche cosa No Era la temperanza Non è stato Dipendato Si Devo dire Che probabilmente Qualcuno Avrà un po' Di fretta Per ottenere Certi risultati Ma qui Vi dicono appunto Tempo al tempo Perché voi potreste Anche essere pronti A tirare le redini Del carro Ma è come Se l'altra persona Bisogna ancora Un attimino Di tempo Ragazzi Fatemi sapere Nei commenti Come vi risuona La lettura Se volete Sostenere il canale Potete mettere Like Potete iscrivervi Condividere il video Se avete piacere Potete anche lasciare Una piccola donazione Se poi Volete iniziare Un percorso di crescita Con me Potete scrivermi Una mail Per fissare Una sessione Oppure Se preferite andare A vostro ritmo Potete abbonarvi Al canale Io vi ringrazio Di essere stati qui Vi mando un abbraccio Ci vediamo Nei prossimi video Ciao ciao